Buon salve e benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars con un nuovissimo spacchettamento settimanale. Siamo a 1.943 coppie ma questo qua poco importa, abbiamo 44 trofei da aprire. I due precedenti spacchettamenti non sono andati bene, non c'è uscito niente di bello, oggi speriamo di trovare qualcosa di un po' più interessante né caro Brawl Stars? Iniziamo ad aprire i primi dieci così tranquilli. Abbiamo monete, hanno aggiunto dei brawler, hanno aggiunto un brawler caro l'hanno aggiunto se non sbaglio, grazie, andiamo dai, niente di utile, bellissimo monete, bombardino e mortis, questa è proprio triste però con il cazzo, monete è il primo, punto energia e niente, mi sa che andrà a finire male, mi sa che anche oggi niente, il leggendario uscirà domani, non è vero, e anche oggi il leggendario uscirà domani, tipo quelle pagine strane quindi va bene, pocio barrel e niente, vai così, Penny, beh Penny mi sta bene, puoi anche stare lì, Penny, ottimo, bull, l'odio quindi può anche stare lì, ok, monete, punto energia per il primo, Frank, questo era bello cicciotto come baule, era bello cicciotto, 32 dai, monete, Shelly, bull, e penne, e bigliettini, bigliettini in Instagram, va bene, monete 30, colt, dai, bull, non lo so se sapete, fatemi sapere con quale, se c'è qualche trucchetto tipo Clash Royale per far capire se esce un brawler, fatemelo sapere se lo sapete, fatemelo sapere se lo sapete, se bene, ora apriamo un baule, una mega cassa, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante, monete per 100, pocio, bombardino, barrel e niente, e me la piglio nello stoppino anche stavolta, no, non ci sto, dai, monete, gemme per 3, ma io non voglio le gemme, voglio un brawler, voglio un brawler, tipo, vi do l'accontentino, dai, 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 può andare ancora meglio, Brock, altre gemme, dai, diramelo fuori il brawler, dai, 27, però 2 progettoni mi sta bene, per 200, bene sto, bene sto, io non voglio, dai, non mi far sprecare anche tutti questi baule, per 5, capito, caro amico, io voglio un nuovo brawler, ce ne sono tanti, diciamo ne uno, mi accontento, monete, punti nel G, appoccio e niente, mamma mia, Mario, barrel, dai, mi far passare la voglia anche qua, vorrei queste altre gemme, io queste qua non le faccio a velocissimi, dai, dai, punti, Tara, via, niente di utile, cambio della guardia, niente, altro baule, altra corsa, giù me, giù me, giù me, monete, punti, punti, Penny, Penny mi sta bene che poi la potenzio, dai, un altro, monete, stecca, Brock, biglietti, mi arrabbio, mi arrabbio, monete, punti, punti, niente, vai là, monete, punti, punti, biglietti, niente, monete, punti, punti, niente, altro baule, altra corsa, monete, Nita, Tara, vada, biglietti, tutti uguali sti bauli, monete, punti, foccio, Tara, e non più nello stoppino, ultimi undici bauli, monete, punti, punti, bull, monete, punti, punti, niente, monete, punti, energia, punti, energia per mortis, e niente, ho aperto 40 bauli, tu mi vuoi dire che non trovo niente, neanche un brawler schifoso, in 40 bauli, più quelli dell'altra volta, più quelli dell'altra volta ancora, monete, punti, punti, e niente, vada, 5, vai, monete, punti, punti, e altre gemme, grazie per le gemme, ma ne faccio di niente, monete, no, io raccordo tutti sti bauli per niente, ho una maledizione addosso, a parte gli scherzi, davvero, monete, punti, punti, gemme, grazie, ma non interessano le gemme a me, e niente, bene, via, abbiamo buttato via 40 bauli così, ultimi due bauli di questi qui, mica, io non so più cosa fare, davvero, monete per 61, brocchio, Tara, Shelly, gemme per 8, grazie, ma io voglio un brawler, 50, me lo compro, me lo compro, gemme, punti, per 8, vai. E' più soddisfacente, è più soddisfacente, volevo lanciarla più forte, poi ho pensato non facciamo danni, negozio, allora, c'era, no, non lo voglio questa caccata di monete, allora, one moment, one moment, abbiamo, non posso prendere niente di utile, no? Io direi di shoppare, visto che abbiamo 60 altre due casse enormi, ora, andiamo un po', magari esce qualcosa di interessante, vai, così vede che ho shoppato, magari un brawler me lo tira fuori monete, mortis e stack, dai, lasciami con due gemme e dimmi, oh, meno male, uno nuovo, Karl, sì, era ora, super raro, grazie, bro, visto? Ha funzionato, dovevo shoppare, ha funzionato, in realtà non ho shoppato niente perché solo le sue gemme, però va bene, non lo diciamo che poi si arrabbia, grazie. Karl lancia il suo piccone, Karl lancia il suo piccone con un boomerang, mentre con la super, provate a vorticosamente sul suo carrello, elargendo Sunny picconata che gli sta attorno, può essere forte, bene, 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 grazie per due gemme, bene, io direi andiamo a vedere il nuovo brawler, andiamo a vederlo, andiamo a vederlo, tanto poco posso, praticamente posso potenziare quasi tutti, ok, dov'è, dov'è, oh, dammi, dammi il mio caro amico, ok, ragazzi, io vi dico che per questo spacchettamento è tutto, era partito male, ma poteva andare, poteva andare meglio invece, vabbè, ci accontentiamo, non ci lamentiamo sempre, spulciate, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video, ciao, ciao! Ciao!